Surruga, membro dimissionario della commissione di gestione della biblioteca civica, diciamo che è Salvatore Italia un membro della commissione, anche se di fatto collabora, ha dato le dimissioni, collabora di fatto ma per problemi suoi personali, ha preferito la sede della dimissione perché non si sentiva in grado di portare a termine nel migliore modo la presidenza della biblioteca. Nonostante comunque le sue dimissioni, dico che continuo a collaborare, questo lo si vede anche nelle varie riunioni che abbiamo fatto della biblioteca. Ovviamente da parte mia e di tutto il consiglio vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto ufficialmente fin qui, già anche nel passato con l'amministrazione che ci ha preceduto e per i mesi che ha collaborato con noi per tutto quanto ha fatto. Sicuramente ha dato una certa impostazione molto in positivo alla biblioteca, rendendo la stessa una realtà molto attiva e che si è imperniata nel nostro tessuto sociale e culturale del nostro territorio. Quindi rinnovo i ringraziamenti per quanto ha fatto Salvatore Italia per la presidenza biblioteca e comunque la sua esperienza e la sua professionalità non verranno a mancare sicuramente perché comunque ce l'ha detto. Detto questo, che era poveroso nel confronto di Salvatore Italia, noi come consiglio proporremo il nome di Mario Teresa Mancini che assurroga come membro della biblioteca. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.